Ciao a tutti, voglio dedicare questo video alla compilazione di un programma dedicato agli utenti di LaTeX. Il programma si chiama TextMaker. È un programma che permette appunto di scrivere codice LaTeX in maniera semplificata. È un programma multiplattaforma, quindi disponibile per Windows, per Macintosh, per Linux. È gratuito e si trova, è reperibile sia come pacchetto, diciamo, in ambito Linux come pacchetto della propria distribuzione, oppure è scaricabile dal sito ufficiale che troviamo su internet. Quindi intanto visitiamo il web, quindi mettiamo in ricerca TextMaker. Questo è Wikipedia se uno volesse avere degli approfondimenti, ma andiamo direttamente sul sito madre. Ok, quindi questa, diciamo, è l'interfaccia con cui si presenta. Presenta un'area dedicata al preview del PDF che stiamo scrivendo con codice LaTeX. Codice LaTeX che viene inserito in maniera semplificata grazie alla presenza di, diciamo, pulsanti che propongono appunto codice LaTeX per semplice clic sui vari pulsanti. Ripeto, questo, andando nella sezione Download, vediamo che il programma è disponibile, in ambito Windows, Matchintosh e Linux. Per quanto riguarda, è possibile che qualche distribuzione Linux non abbia, magari, il pacchetto aggiornato all'ultima versione che attualmente è la 503, e quindi il sito offre la possibilità di installare, in questo caso, il pacchetto, ma il pacchetto è previsto soltanto per due distribuzioni di distribuzione Linux, ovvero per Ubuntu e per Debian. Nel mio caso, invece, io sto facendo uso della distribuzione Fedora, che ha, diciamo, un suo pacchetto installabile col gestore dei pacchetti, quindi se io apro un terminale, dando il comando sudo dnfinstalltextmaker, inserisco la mia password, qui aggiorno un po' i repository, dove andare a cercare il pacchetto in questione, e lui lo rileva, però, quindi dice il pacchetto da installare Textmaker, ma come dipendenza mi richiede anche l'installazione di Textmaker, che io, in realtà, ho già installato, ho installato in maniera manuale, installandola dall'immagine ISO scaricata dal sito madre, anche qui andando a mettere in ricerca Textlive ISO, quindi, qui mi dice, questo è il sito madre da cui poter scaricare il motore Latex Textlive, è scaricabile in diverse modalità, da cui ritengo la migliore sia attraverso il download di un file torrent, che scarichiamo, ad esempio, sul desktop, e poi, diciamo, apriamo con il gestore dei pacchetti, diciamo, dei file torrent, che nel caso di Linux è il programma Transmission, e quindi si procede con il download del programma, che è abbastanza grosso, sono quasi 4 giga, quindi una volta terminato questo step preliminare, che riserva eventualmente un altro video, non è quello che viene contemplato in quest'altro, quindi una volta disponibile nel nostro ambiente desktop il motore Latex, ci vuole poi un programma che permetta di scrivere codice Latex, e in questo caso il programma in uso, appunto, è quest'altro che si chiama TextMaker, e ripeto, se noi lo volessimo installare tramite il gestore dei pacchetti in Fedora, mi rileverebbe l'assenza di Textlive e me la reinstallerebbe, cosa in realtà non è vera, per cui mi sono ritrovato nell'esigenza di dover compilare da sorgente anche il TextMaker, quindi ho eseguito il download del sorgente, ad esempio mi creo, mi scelgo una location, ad esempio sono andato in programmi TextMaker, Sorgenti, e qui ho scaricato il programma, adesso voglio eseguire un nuovo test, quindi scelgo un nuovo percorso, vado sulla scrivania, mi creo anche qui una cartella TextMaker, dove mi creo una sottocartella, Source, dove mi salvo appunto il sorgente, quindi completato il download, estraggo il sorgente appena scaricato, che è nel formato tar.bz2, ok, e qui mi trovo tutti i file del sorgente che andrebbero compilati per ottenere appunto il programma funzionante. Leggendo l'install del programma, ho cercato appunto le specifiche per ottenere una corretta compilazione e installazione del programma. Prima ancora, diciamo, di installare questo programma, questo è stato, diciamo, la seconda trovata, che poi è quella in realtà consigliata, però leggendo appunto questo file di testo, non specifica le dipendenze per una corretta compilazione e installazione di questo programma. Queste informazioni invece le ho trovate, quindi questo chiudo, chiudi le altre schede a destra, queste informazioni invece le ho trovate nel sorgente reperibile su un repository di GitHub. Quindi andando a mettere in ricerca TextMaker GitHub, ho trovato un repository, che a quanto sembra non è quello ufficiale, che comunque presentava un file install, dove però presentava queste informazioni. E quindi mi diceva che era necessario installare il Qtitle Kit, Poplar, Poplar Qt4 e GoScript. Per cui ho provveduto prima a installare queste dipendenze, prima di procedere con la compilazione e installazione, che qui consigliava di eseguire con questo comando sudo sh build sh, che è noto essere diverso dal programma, dunque qui, scrivania, text maker, sorgenti, text maker, questo è il sorgente che io ho scaricato dal sito originale. Se io mi leggo il programma install, qui, in realtà qui invece la procedura per la compilazione del programma risulta essere differente. Qui, quindi, nel sorgente di GitHub si consiglia di usare sudo sh build.sh, mentre qui si consiglia di dare qmake text maker.pro seguito dal comando make. In realtà però ho notato che nel sorgente scaricato dal sito originale è presente anche qui lo stesso file che era citato nel sorgente di GitHub, per cui ho pensato che magari potesse essere valida, anche per il sorgente aggiornato, la procedura prevista per il sorgente vecchio. Per cui diciamo che ho intrecciato le due informazioni ottenendo una compilazione corretta utilizzando questo script che in realtà è comodo perché permette di personalizzare l'installazione, o meglio, la compilazione successiva installazione del sorgente originale. Quindi in questo video, diciamo, in questo video mostrerò come poter compilare il sorgente di text maker nella sua ultima versione scaricato dal sito ufficiale integrando queste informazioni assenti nell'install del programma, dello stesso programma, quindi qui dentro. Intanto noto che il vecchio sorgente richiedeva la versione 4 della libreria Qt, mentre qui si richiede la versione maggiore o uguale a 5.7, quindi questa è già un'altra differenza tra i due sorgenti, per cui io ho in pratica schematizzato i pacchetti qui installati, quindi ho installato Qt5, Qt5Devel, Poplar, che qui era destinato alla versione Qt4, io l'ho, diciamo, installata anche per la versione Qt5 e la relativa per il development, quindi per lo sviluppo, quindi per la compilazione di un programma, e quindi i pacchetti fondamentalmente che ho installato sono stati questi insieme a questi. Questo per, diciamo, ottimizzare le dipendenze per il sorgente vecchio, che è stato il primo che ho installato, ottenendo comunque una compilazione corretta, però con un eseguibile che ho notato avere un'interfaccia non aggiornata, un po' più vecchia, da lì la ricerca di una versione magari più nuova, perché ero consapevole che ci fosse un'interfaccia più aggiornata dello stesso programma, e quindi facendo una ricerca ho provato a scaricare il sorgente direttamente al sito madre, procedendo con una installazione integrata con le informazioni ricavate dal vecchio sorgente, ottenendo comunque una compilazione corretta che però presentava l'interfaccia nuova. Quindi adesso procederò prima con la descrizione della compilazione del sorgente vecchio, e poi mostrerò le differenze necessarie per la compilazione del sorgente nuovo. Quindi procediamo adesso col tutto, quindi ripulisco un po' tutte le... ecco qui. Allora, intanto mi scarico il sorgente anche del repository vecchio, quindi da github. Salvo. Sempre scriver niente che ne assurcis, salvo. Ok. Quindi questo lo estraggo anche. Ok. Lo rinomino, per distinguerlo meglio, con github. Ok. E a questo punto procedo con l'installazione. Quindi questo qui lo chiudo, questo chiudo tutto, questo qui lo riduco. Quindi procedo prima con la... con l'installazione di questo sorgente scaricato da github. Quindi ripeto, mi apro un... l'install per seguire le direttive. Questo qui l'install. Ok. Quindi mi dice come prima cosa di installare i requisiti, che sono questi, e che io comunque avevo schematizzato qui dentro. Quindi mi apro un terminale. Allora, intanto nella domanda precedente, che mi era fatto... quindi prima stavo provando a installare TextMaker come pacchetto, ma dicevo, evito di farlo, perché mi richiede di dover installare TextLive, che io ho già installato Scaricandolo dal sito. Quindi ripeto, rispondo alla domanda con no, e quindi esco dal processo di installazione e faccio un clear Per pulire il terminale. Dopodiché, quindi procedo con l'installazione delle dipendenze. Allora, e quindi faccio sudo dnf, quindi io sto in ambiente linux fedora, con la spin xfce nella versione 29. Quindi il gestore dei pacchetti, il mio gestore dei pacchetti è dnf. Ovviamente i comandi saranno da dover adattare alla propria distribuzione linux. Quindi sudo dnf install e quindi procedo con questi pacchetti, che ovviamente nel mio caso sono già installati, per cui in realtà mi dirà che non c'è altro da fare Perché sono stati già rilevati e installati. Ripeto, questi pacchetti sono quelli che in pratica ho trovato qui indicati. Qui c'è il QT Toolkit, che qui è specificato nella versione 4, quindi ho installato il QT4 e la versione development per la compilazione e poi mi dice poplar poplar con poplar QT4 e ho installato anche il poplar QT4 devil e poi dato che Fedora 29 fa uso di QT5 ho provveduto ad installare anche le relative i relativi pacchetti per la versione di QT5 quindi QT5, QT5 devil poplar, poplar QT5, QT5 devil e poi c'è questo GoScript che serve per la conversione da latex al formato html quindi per generare html da codice latex quindi procedo quindi con l'installazione e ovviamente qui mi dice che i pacchetti sono tutti quindi queste dipendenze io le avevo già tutte installate quindi non c'è altro da fare quindi clear mi pulisco il terminale e quindi questo step è completato a questo punto posso provvedere alla compilazione e installazione di textmaker prima di tutto mi devo recare in questo percorso quindi io adesso mi trovo nel percorso home riccardo quindi in questa cartella mi devo recare invece in questa cartella quindi vado in cd scrivania textmaker sources textmaker github e qui dando una lista mi ritrovo tutti i file che appunto trovo in questa cartella tra cui appunto il file built che ho qui quindi devo provvedere adesso posso provvedere a dare questo comando e quindi faccio invio e qua mi chiede allora intanto andiamo a leggere quello che è il contenuto di questo script che stiamo lanciando allora qui mi sta chiedendo di inserire il percorso di qt quindi mi sta infatti domanda facendo questa domanda siamo a questo punto dello script e qui la mia risposta viene registrata in una variabile di nome qtdir che poi viene utilizzata per specificare per diciamo definire queste altre variabili d'ambiente che sono path e queste altre qui e quindi io devo indicare un percorso della mia libreria qt che abbia poi al suo interno una sottocartella bin quindi ho cercato apriendo un'altra scheda prima di tutto ho eseguito una indicizzazione dei file di sistema con sudo update database per diciamo aggiornare l'indicizzazione dei file di sistema dopodichè vado a localizzare col comando locate il percorso che abbia come nome qt5 e poi deve questo percorso qt5 deve essere seguito da una sottocartella bin quindi se io lanciassi il comando come tale mi dà una lunga lista per filtrare meglio questa ricerca ripeto il comando applicando un filtro col grep bin perché lui deve trovare poi in questa cartella in questo percorso qt5 anche la sottocartella bin quindi invio e lui ha filtrato diciamo il il percorso individuando questo percorso qui che è quello che poi a me interessa perché poi lui andrà a trovare qdir bin qmake quindi è questo il percorso quindi la mia libreria il percorso che a me serve fondamentalmente è questo che io vado a copiare per inserirlo poi qui dentro nello script quindi enter path to qt inserisco questo percorso qui dopo di che mi chiede seconda domanda mi dice di indicare se sto usando un sistema unix o match intosh io indico 1 poi terza domanda quindi avendo indicato l'opzione 1 lui va bene ha automaticamente impostato queste variabili avendo impostato il percorso 1 lui eseguirà questa porzione di codice se invece avessi un mac lui avrebbe diciamo eseguito quest'altra porzione di codice quindi avendo un unix lui eseguirà queste domande e quindi procede con queste prime domande queste ulteriori domande che appunto è questa quindi mi chiede di indicare il percorso dove andare a installare il programma quindi io scelgo opt invio seconda domanda indicare la cartella dove andare a inserire il sul launcher quindi che è un file con l'estensione .desktop e quindi confermo posso semplicemente confermare con un invio il percorso predefinito che è user share application mi chiede anche di indicare specificare il percorso dove andare a posizionare l'icona che viene associata al sul launcher che è questo file .desktop e io confermo il percorso predefinito con un semplice enter quindi invio dopo di che lui procede con la compilazione del programma ovvero procede con make che fa uso di queste della configurazione con queste variabili inserite rispondendo a queste domande questo e questo dopo di che procede con make che è la compilazione vera e propria del programma per velocizzare il processo make si potrebbe personalizzare lo script specificando l'opzione trattino j indicando il numero di core di cui è dotato il nostro computer in uso il mio computer è un dual core per cui avrei potuto personalizzare il comando indicando l'opzione j2 salvando e quindi prima di lanciare ovviamente il built.sh questo perché se io apro una nuova scheda e leggo il manuale del comando make leggo appunto che è prevista questa opzione che mi permette di specificare il numero di comandi da lanciare simultaneamente quindi il numero di processi simultanei e se viene indicato specificata più di una opzione j soltanto l'ultima viene resa attiva in questo caso diciamo e poi quindi se l'opzione j è data senza un argomento quindi senza il 2 ad esempio allora non si limiterà il numero di diciamo processi da lanciare simultaneamente questo però potrebbe generare una non responsabilità poi del computer che è totalmente impegnato nel processo di compilazione per cui è sempre bene comunque penso limitare il diciamo il diciamo il valore specificando un valore per l'opzione j comunque in questo caso io non l'ho fatto uso di questa opzione con q si esce dal man quindi chiudo questo terminale ritorniamo alla scheda e attendiamo quindi che si completi il il processo di compilazione che quindi mi darà questa dicitura alla fine la compilazione è il processo di compilazione è data al comando make il processo di installazione è dato dal comando make install è completato e poi in maniera predefinita da un esito privo di errori adesso c'è soltanto da completare e ripeto il il processo ha una durata come tempi che è relativa alle caratteristiche hardware del computer in uso quindi il sorgente poi dicevo nel percorso user share pixmaps andrà a inserire l'icona questa qui il file ico del programma da associare al programma da inserire nel suo launcher che verrà invece indicato in questo percorso che è user share application che volendo potevamo anche specificare con un percorso diverso infatti diciamo anche l'utente in uso sotto linux ha un percorso analogo che diversamente da questo non richiede diritti amministrativi per la scrittura quindi il percorso analogo sarebbe andando nella cartella utente bisogna visualizzare i file nascosti e poi andare in local share share applications e questo diciamo è il quindi anziché user share application andando in cartellutente local share application abbiamo un percorso dove non si ha necessità di avere diritti amministrativi per la scrittura e dove si vanno a localizzare i launcher che poi troviamo nel menu qui del insomma del nostro ambiente desktop ok ok questo è il 5 3 quindi noi stiamo compilando adesso il sorgente scaricato da github poi questo ripeto il file install dove si hanno le direttive che stiamo leggendo per i requisiti adesso abbiamo lanciato questo comando e poi abbiamo lo script build che è quello che stiamo appunto eseguendo in questo caso e abbiamo poi la cartella trans dove ci sono le diciamo le varie lingue ecco adesso ho concluso il processo di compilazione e anche installazione quindi c'è scritto compilation and installation done che è appunto la frase che ci attendavamo alla fine quindi è terminato dicevo nella cartella trans si ha diciamo la traduzione dell'interfaccia grafica in tutte le in diverse lingue tra cui anche l'italiano questa è la traduzione italiana ovviamente diciamo verrà rilevata verrà rilevata la lingua di sistema in questo caso l'italiano e quindi verrà impostato in maniera predefinita come lingua dell'interfaccia dell'applicazione textmaker con l'italiano quindi adesso andiamo a lanciare il questo il diciamo l'install il programma compilato che quindi presenta un'interfaccia italiana eventualmente con la lingua dell'interfaccia modificabile con queste opzioni che appunto sono contenute in quella cartella trans questa qui l'installazione ha creato la cartella opt bin con l'eseguibile che appunto è lo stesso lanciabile qui ok l'interfaccia però avevo notato essere siccome comunque è un programma che utilizzo appunto per scrivere codice latex notavo che però presentava una interfaccia più vecchia rispetto a quella che a cui ero abituato per cui da questo mi sono un attimo allertato che probabilmente il codice sorgente che avevo scaricato che nella sua prima versione appunto quello da github non era nell'ultima non era aggiornato invece pensavo che il repository fosse della sito ufficiale per cui a quel punto ho pensato di scaricare il sorgente direttamente dal sito madre che è un sorgente nella sua versione 503 e che appunto richiede una versione più aggiornata qui specificata maggiore o uguale a 5.7 rispetto a quella che invece era definita qui essere versione 4 per cui ho avuto ho pensato di disinstallare il textmaker così appena compilato e provvedere quindi alla installazione della sorgente appena scaricato quindi adesso procedo con la rimozione quindi intanto faccio un clear per una pulizia del terminale dopodiché provvedo alla preliminare disinstallazione e rimozione del programma appena installato quindi vado con un sudo make un install nella stessa cartella anzi prima ripeto faccio un pvd quindi mi trovo in questa cartella quindi recandomi in questa cartella do il comando sudo make un install quindi la mia password quindi ecco un dollaro punto integrativo per vedere che non ho comunque il processo di disinstallazione terminato correttamente e quindi è stata eliminata la cartella bin con textmaker contenuta in opt con tutti gli altri file della compilazione ok quindi a questo punto si procede con quindi questo lo chiudo quindi nella cartella del sorgente textmaker comunque mantengo conservo l'eseguibile textmaker ancora funzionante che comunque posso sempre utilizzare però senza aver nel sistema installate i file della compilazione procedo quindi passo mi trasferisco nel sorgente nella cartella del sorgente scaricato invece dal sito madre e quindi procedo in questo caso con la compilazione del con la lettura inizialmente dell'install install e quindi qui mi dice ripeto le le dipendenze preliminari le avevo già installate all'inizio quindi non è necessario reinstallarle qui che erano dipendenze che in questo install ripeto non erano specificate poi qua mi dice per compilare procedere con la sequenza di comandi qmake textmaker punto pro seguito poi dal comando make ho eseguito inizialmente questa sequenza proposta pensando che fosse necessaria diversamente da quella precedente che prevedeva lo script built.sh questo qui built.sh però in realtà mi sono reso conto che anche il codice nuovo presenta lo stesso script per cui ho pensato e ipotizzato che in realtà lo stesso script potesse essere funzionante anche nella versione nuova permettendomi di personalizzare quindi la compilazione per cui ho quindi adesso faccio un clear pvd quindi è dove mi pvd è il percorso dove mi trovo quindi devo andare nella cartella cd textmaker 5 quindi la versione nuova quindi mi sono trasferito adesso in questa versione nuova quindi in pratica provo a lanciare lo script di build come nella versione precedente quindi sudo sh built e quindi andiamo a leggerci il contenuto di questo eseguibile nuovo qui qui mi chiede enter full path to qt quindi in pratica mi trovo a questo livello anche qui la risposta viene registrata in una variabile che è nominata qtdir e qui mi dice che questa variabile questo percorso deve contenere l'eseguibile qmake quindi lui andrà a ricercare in questo percorso l'eseguibile qmake quindi in pratica qmake è questo percorso qui quindi mentre io prima avevo indicato questo percorso quindi fermandomi a qt5 in questo caso invece devo indicare la cartella anche bin copia quindi inserisco incolla quindi questa è già una prima differenza rispetto allo script precedente dove invece andava indicato il percorso questo percorso qui dopodiché mentre prima questo è quello nuovo mentre prima mi chiedeva di impostare manualmente se utilizzavo un sistema unix o un sistema match in Tosh in questo caso però ha un'implementazione questo script per cui va a rilevare in maniera automatica il sistema operativo in uso e in questo caso ha rilevato in maniera automatica che si tratta di un linux quindi tra un linux o un mac altrimenti se non fosse riuscito a rilevarlo mi avrebbe fatto la domanda dello script precedente di questo vecchio che era appunto questa in questo caso ripeto questa parte è stata bypassata in maniera automatica avendo rilevato in maniera automatica che è in uso un sistema unix quindi opzione 1 mi va a eseguire la parte relativa all'opzione 1 quindi destinata a linux e quindi mi esegue tutta questa parte qua diversamente se fosse stato un match intosh avrebbe eseguito questa porzione di codice quindi in questo caso io mi limiterò a questa questa qui e quindi lui inizia a farmi la prima domanda che appunto è questa è enter installation path enter installation path quindi indicare il percorso io voglio che appunto mi venga installato in opt come precedentemente quindi incollo dopodiché mi pone la seconda domanda enter directory for desktop file quindi inserire il percorso dove andranno a inserirsi dove andrà inserirsi il launcher della di textmaker che è un file con estensione punto desktop e quindi io ecco diversamente dal precedente script mentre prima potevo confermare con un semplice invio il percorso se io adesso lo dovessi fare mi richiede di rispecificarlo quindi in questo caso diversamente prima devo proprio inserire il percorso quindi terza domanda lo stesso confermo il percorso predefinito scelto invio e quindi passa procede quindi con la compilazione ok a questo punto mentre prima il processo di compilazione avveniva in maniera terminava in maniera automatica con in maniera con successo indicando zero errori in questo caso in realtà c'è un check degli insomma della presenza o meno di errori con questa domanda e a seconda della diciamo dell'esito di questo comando se è uguale a zero allora il processo qmake sarà finirà con successo diversamente se è diverso da zero verrà indicato che il processo è fallito il processo qmake è fallito e quindi si interromperà lo script con un exit uno diversamente procede oltre e quindi procede con il comando make che procede con la compilazione del sorgente stesso e quindi attende l'esito del comando make che se è uguale a zero darà la dicitura che il processo di compilazione è terminato con successo diversamente se è diverso da zero è compilato e il processo di compilazione è fallito e quindi si esce dallo script con un exit uno a quel punto quindi terminato il processo make che è il processo di compilazione verrà posta la domanda se si vuole procedere con l'installazione o meno se si risponde con yes quindi con una y allora si procede ecco quindi se si risponde con y quindi si procede con questo processo diversamente se si risponde con no si esce dal processo e mi dirà la compilazione è finita in questo caso quindi nel mio caso scelgo di installarlo a livello di sistema quindi quindi scegliendo yes anche qui va a controllare l'esito della comando make install che se è uguale a 0 mi dirà che l'installazione è terminata con successo se è diversa da 0 mi dirà che il processo è fallito cioè l'installazione è fallito e quindi mi dice di controllare gli errori del comando make ed esce dallo script con un exit 1 quindi adesso ci troviamo nella fase ci troviamo nella fase in questa fase dunque linux ok qmake ci troviamo ancora in questa fase qui quindi mi dovrà mi dirà se è terminato con successo o se il processo è fallito sta ancora compilando no allora il processo qmake l'aveva già completato quindi qmake qmake successful quindi adesso si trova a eseguire il comando make e quindi poi mi chiederà mi dirà se il processo make è terminato con successo se dollaro punto integrativo è zero se invece diverso da zero mi dirà fail quindi adesso ho da attendere questo questo esito e no allora stavo dicendo no questo ho risposto questo sta facendo adesso quindi mi dirà se devo attendermi questo esito successful dopo di che mi chiederà se voglio procedere con l'installazione o meno quindi adesso ci troviamo in questa fase qui il comando make potrebbe durare avere tempi di durata diversi a seconda delle caratteristiche hardware del computer in uso e potrebbe essere eventualmente velocizzato specificando l'opzione trattino j che è propria del comando make per cui se noi apriamo ad esempio un'altra scheda q allora se vado a leggere il manuale del comando make leggo appunto che il comando make ha questa opzione j per cui eventualmente potrei specificarla a questo livello per velocizzare il processo di compilazione del sorgente specificando il numero di core del computer in uso da utilizzare per la compilazione in questo caso io non l'ho specificato ma eventualmente andrebbe personalizzato lo script in questa ora giustamente trattandosi di uno script generico non è stata specificata neanche questa opzione né tantomeno è stata indicata l'opzione senza un numero quindi senza l'argomento perché come dice qui if the j option is given without an argument quindi se l'opzione j è data senza un argomento non verrà previsto un limite nel numero di processi contemporanei simultanei lanciati ma questo potrebbe generare una mancata responsabilità del sistema per cui è meglio evitare di fornire l'opzione j senza specificare l'argomento il numero di core da utilizzare quindi q ok quindi c'è semplicemente adesso da dover completare il cioè da attendere questo step augurandosi che appunto non che termini senza errori e quindi dia esito successful anziché di fail perché in tal caso poi uscirebbe dallo script e quindi sarà necessario dover ricompilare tutto cioè ricominciare dall'inizio tutto da capo in quel caso quindi conviene eliminare la cartella questa cartella textmaker quindi ripartire dal dal da questo archivio scaricato dal sito madre e quindi ripartire con tutta la sequenza dei comandi che abbiamo usato che ho usato verificare verificare anche che la connessione magari web sia diciamo ecco io magari non l'ho fatto però all'inizio di tutto prima ancora di diciamo dopo quindi una volta installati questi pacchetti si potrebbe magari dare anche un un comando sudo dnf update per aggiornare l'intero sistema eventualmente se necessario se riavviare anche il sistema quindi procedere da un sistema completamente aggiornato prima di procedere quindi con una compilazione io avevo già preliminarmente aggiornato tutto il sistema quindi non non l'ho non l'ho fatto ok successful quindi siamo qui quindi mi chiede do you want to install quindi voglio installarlo rispondo yes quindi a questo punto verifica ancora che l'installazione sia andata sia terminata completamente ok conferma successful perfetto quindi compilation and installation is done quindi la compilazione e installazione è fatta perfetto perfetto quindi la compilazione è finita a questo punto perfetto quindi a questo punto mi ritrovo nella mia cartella l'eseguibile compilato e installato questo qui cliccabile e come si può vedere l'interfaccia è differente è l'ultima l'interfaccia con la versione 503 anche qui nella lingua italiana perché anche qui abbiamo tutta la cartella di tutte le lingue trans qui dentro e poi è stata creata la cartella di sistema in opt bin l'eseguibile ok a questo punto poi niente abbiamo completato quindi questa è l'interfaccia del programma quindi questo è il riquadro dedicato al preview del pdf che andiamo a creare con codice latex scritto in questo riquadro qui e qui diversamente da altri text editor abbiamo la possibilità di inserire codice latex con questi pulsantini che semplificano quindi il diciamo tutta la procedura insomma l'inserimento di comandi quindi ad esempio bolt per il grassetto corsivo enfatizzare il carattere e quant'altro poi si può generare la bibliografia l'indice analitico o meno del pdf pdf latex è per generare il pdf dal codice latex che stiamo scrivendo quindi si clicca sul pulsante e qui abbiamo il preview e poi ovviamente questo programma text maker deve essere configurato con configura text maker con ripeto i comandi dell'atec forniti da text live che ripeto deve essere preliminarmente installato e nel mio caso io l'avevo l'avevo installato con il torrent scaricato dal sito madre ripeto text live quindi mettendo in ricerca text live iso torrent qui quindi scarico questo file torrent salva destinazione con nome scrivania quindi ripeto è un file grosso da scaricare di circa 4 giga che poi verrà installato e anche qui diversamente dal text maker che la cui compilazione eventualmente vede una interfaccia tramite terminale invece text live prevede una doppia interfaccia di installazione sia da terminale quindi come text maker sia con una GUI quindi una graphical user interface una interfaccia grafica dell'utente che è molto più vicina anche agli utenti windows che diciamo permette l'installazione installazione di text live che in genere è riservata all'utente in uso quindi non richiede diritti amministrativi e quindi non richiede il comando sudo per l'installazione ok con questo è tutto e magari dedicherò un altro video per la compilazione o meglio per l'installazione di text live che attualmente è nella versione appunto 2019 mentre magari se installato da pacchetto c'è il rischio che possa non essere disponibile l'ultima versione in uso e quindi magari ci si ritrova con una versione vecchia di text live comunque con questo è tutto e magari al prossimo video e quindi Grazie a tutti.